Attenzione alle video chat a luci rosse. Potreste essere ricattati. È l'avvertimento che oggi la polizia postale di Venezia ha diffuso dopo aver spiegato che sono decine le denunce arrivate nei suoi uffici in questi mesi per estorsioni scattate dopo l'avvio di una chat erotica con una sconosciuta. Sembra esista un'organizzazione che applica lo stesso modus operandi. Un'avvenente ragazza invita l'ignara vittima su una chat. Può essere tra le più varie. Può essere un social network o un sito di video chat come Chatroulette. L'invito è ad avviare una chat erotica con l'attivazione della webcam. Dopo pochi minuti, una volta catturate le immagini compromettenti, viene bruscamente interrotta e viene richiesta una somma di denaro affinché il video non venga pubblicato online. Le raccomandazioni a questo punto sono ovvie. Non dare mai i propri dati personali, l'identità o gli indirizzi e-mail. Inoltre, non mostrare elementi facilmente riconoscibili del proprio appartamento. Non cedere al ricatto, soprattutto. È certo che molti, per evitare l'imbarazzo, abbiano pagato. Meglio rivolgersi alla polizia postale, portando più materiale possibile per aiutare all'identificazione degli estorsori. Infine, buono a sapersi, se davvero quei video scomodi finiscono in rete, è sempre possibile ricorrere immediatamente alle procedure di abuso previste da tutte le più diffuse piattaforme di condivisione di video.